La mitologia norrena. Odino e i nove mondi. La vera storia di Odino, il padre degli dèi. Letto dall'avido alchimista. Il fuoco crepitava all'ingresso della caverna. Besla, dalle fattezze prominenti tutta carne e vita, attendeva immerse nel suo splendore, scrutando i rami che si agitavano nel bosco. Lì apparve il suo sposo, in compagnia di Vili e di Pe, che a malapena gli arrivavano alla cintola. Erano due fanciulli dall'aria sveglia e dall'andatura agile, proprio come il loro fratello Odino. Sulle spalle trasportavano i corpi dei rispettivi cervi. Quando i suoi figli entrarono evitando il suo sguardo e si sedettero accanto al fuoco senza pronunciare parola, l'afflizione turbò il volto di Besla. Bor andò verso di lei, le posò una mano sulla spalla e negò con un cenno del capo. Spellarono i cervi all'istante, posero la carne sul fuoco e tesero le pelli sulle rocce per farle essiccare. Mangiarono la carne arrostita e bevvero in silenzio, avvolti dai rumori del bosco e dal crepitivo del fuoco. Improvvisamente udirono un rumore diverso. Il fogliame si muoveva. Tutti cessarono di mangiare e si scambiarono uno sguardo di speranza. Qualcosa avanzava a passi trascinati. Odino si arrampicò sul muro, balzò all'interno e senza alcuna spiegazione soppicò faticosamente fino al fuoco per sedersi con la sua famiglia. Il suo corpo era livido e ricoperto di ferite sanguinanti. Il capo tumefatto, il volto scomposto, gli abiti ridotti in brandelli. Vedendo che le mani gli tremavano irrefrenabili, serrò i pugni con forza per evitarlo, scoprendo la carne viva sulle nocche scorticate. Bor prese una zampa del cervo e la posò al suo fianco. Odino afferrò la preda e la divorò in un sol boccone, mormorando come se mai avesse assaggiato una carne tanto saporita. Uscito dalla caverna, insieme a Vili e Vè, Bor sorvegliava l'orizzonte, inquietato dall'ammasso di grandiose nubi che si scorgevano nell'entroterra. Erano andati a pescare al fiordo. In quelle anguste acque, tra ripidi pendii, solitamente si trovavano pesci di enormi dimensioni. Scagliavano massi e tronchi in corrispondenza dei passaggi più stretti, per ostacolar loro la fuga e poi recarsi in riva per catturarli con gli arpioni. Da quando era tornato dalla sua spedizione tra le giaride montagne, Odino li accompagnava raramente. Era evidente a tutti che non era più lo stesso. Nei suoi occhi Bor avvertiva un nuovo sguardo, più chiaro, ancor più scaltro, il brulicare di nuovi pensieri. Spesso spariva per lunghi periodi senza avvisare nessuno. Quando si inoltrava nei boschi accadeva sempre qualcosa di inatteso e allarmante. Crolli improvvisi scuotevano le chiome degli alberi, smottamenti della terra sollevavano sudici polveroni. Violenti getti d'acqua esplodevano levandosi in aria fino a perforare il cielo. Repentini e impetuosi incendi divampavano finché non erano soffocati dallo straripamento di un fiume. I venti spiravano impazziti per poi placarsi all'istante così come si erano scatenati. Terribili scosse provenienti dalle viscere della terra diventavano sempre più irruente, facendo trepidare le montagne e le grotte e ogni cosa al loro interno. Con un'intensità tale da sembrare che il mondo stesse per frantumarsi in mille pezzi. Ma era proprio in quell'istante che esse cessavano e improvvisamente gli uccelli riprendevano a cantare. Gli insetti a ronzare e la vita scorreva come se nulla fosse accaduto. Altre volte, invece, il ragazzo trascorreva molto tempo seduto a contemplare il paesaggio, dei nubi o i tumulti dell'oceano in assoluto silenzio, imperturbabile che fosse sotto la pioggia o flagellato dal vento. Poi, all'improvviso, si alzava e cominciava a camminare fino a perdersi in lontananza. Ogni volta percorreva distanze più lunghe, ritardando il suo ritorno. Angosciata, Bessla condivideva con Bori il timore che un giorno potesse andare talmente lontano da non tornare mai più. E tuttavia tornava sempre. A volte cadaverico, altre volte ustionato, spesso livido, dolorante, ricoperto di ferite, ma sempre di ritorno a casa. Dopo ogni viaggio, la vivacità del suo sguardo rivelava un risultato della prova che si era imposto. L'aveva superata. suo padre era compiaciuto e al tempo stesso preoccupato. Capiva che suo figlio stava agendo proprio come lui gli aveva insegnato e, nonostante ciò, non poteva fare a meno di diffidare della sua audacia e di apprezzare la prudenza dei suoi fratelli. Nonostante invili e vè albergassero grandiose capacità, si guardavano bene dal manifestarle per un istintivo senso di riguardo e forse anche, perché non dirlo, di umiltà. E così facevano anche i figli degli altri giganti, dalla natura simile a quella dei suoi figli. Osservando il modo in cui Vili e Veer pionavano enormi pesci strappando loro selvaggiamente la sublime eleganza con la quale nuotavano, Bor provò pena per loro. Dovevano morire perché i suoi figli vivessero e si sentiva in dovere di onorarli per il loro sacrificio. Nel breve istante in cui interruppe l'attività che lo occupava si accorse che l'aria era assai quieta e il mondo molto silenzioso. Il requieto abbandonò la riva e risalì per la collina. Dal punto più elevato potei notare che ciò che aveva avvistato in lontananza e che pensava fossero nuvole di tormenta in realtà era una cortina di polvere oscura che si sollevava estendendosi lungo l'intera linea dell'orizzonte. Aumentava vertiginosamente e davanti a essa, là dove si levava, una colossale figura avanzava rapidamente. A stento riusciva a credere ai propri occhi quando un'esplosione in lontananza lo fece sobbalzare. A nord, dove le cordigliere di ghiaccio si orgevano maestose, si innalzò improvvisamente una fumata bianca talmente immensa da coprire un'intera montagna. Con suo grande stupore i monti si staccarono da terra e uno di questi si alzò come se fosse rimasto disteso tra gli altri, sonnecchiante, e le sue vette non fossero altro che una spina dorsale. Alzandosi in piedi, il suo corpo attraversò le nubi e raschiò il cielo con la parte superiore dove risplondevano due bagliori cerulei. Era Ymir, risvegliatosi dal letargo. Trascinando pesantemente un piede, distrusse non curante i monti che gli ostacolavano il passaggio. Quando Bor si accorse che Ymir si dirigeva verso la sagoma che correva all'orizzonte sollevando una nube di polvere, una funesta certezza gli tolse il fiato. La figura che fuggiva era Uthumla, che se non avesse cambiato direzione presto avrebbe travolto la valle della caverna dove Besla era rimasta ad attenderli. Stolti! Bramì. E cominciò a correre per il bosco, spaccando rami, abbattendo alberi, scivolando giù per il pendio. Mentre correva riusciva a distinguere sempre più chiaramente l'opulenta madre e il suo colossale gemello, accorgendosi che per quanto si affrettasse non sarebbe mai giunto in tempo. E rimaneva soltanto la speranza che Besla avesse riconosciuto i segnali di allarme e si fosse messa in salvo, e che questa volta Odino si trovasse il più lontano possibile. Arrivato a valle sarebbe certamente inorridito di fronte alla devastazione scatenata dal non curante passaggio di quelle mastodontiche creature. E ancor più nel vedere che suo figlio non solo non era lontano, ma tentava di avvicinarsi alle creature quanto più poteva. Odino era seduto con gli occhi chiusi lungo uno scosceso pendio. Quando il fragore della corsa di Uthumla, che avanzava verso di lui, lo distolse dai suoi pensieri. La viglia passare è perseguitata da una pioggia di lance e ferita nelle zampe posteriori e sul dorso da una partita di cacciatori del nord che la inseguivano inferborati. Allora sentì che il suolo tremava con irruenza crescente. Intuitivamente guardò verso nord, e scorgendo ciò che proveniva da quella direzione, gli si gelò il sangue. Ymir avanzava con lunghe falcate, facendosi largo tra le nubi e lacerando il cielo con la testa. Ogni suo passo radeva al suolo la superficie della terra con un'esplosione di sabbia, lasciandoli impronta di un profondo cratere. Devastava bosche e pianure, abbatteva promontori, distruggeva il corso dei fiumi. E fu così che con un balzo finale si lanciò in direzione di Uthumla. I cacciatori videro troppo tardi che quello che sembrava essere un intero continente, un'intera parte del mondo, si lanciava ora su di loro. Quando il colosso cadde al suolo, la terra sprofondò provocando un terremoto che presto si propagò in ogni direzione, scuotendo la superficie come fosse una tela. Al di sopra del caos, gli occhi di Ymir brillavano ancora, e cercando ancora un segno di vita, con le mani disintegrò il suolo, facendo in modo che intere montagne volassero in aria per crollare in lontananza, schiacciando ogni cosa che travolgevano. La sua ira si placò soltanto quando si vide circondato da un deserto di terra smossa. Il mondo si era disintegrato al suo passaggio. Odino cercò un riparo e si mise in salvo finché la distruzione non fu diminuita di intensità. Rannicchiato dietro una roccia, rimase immobile a contemplare Ymir. Othumla era lontana ormai. Il suo gemello sbuffava da quelle che sembravano le sue narici. Quando vide che sua sorella era al sicuro, Ymir voltò le spalle alle rovine che aveva causato e intraprese il cammino di ritorno al gelo. Odino, che rispetto a lui era un insetto, gli corse dietro. Il mondo sembrava nuovo. Nulla ricordava ciò che era arrestato. Il cuore del giovane batteva all'impazzata per via del terrore che gli aveva destato il cataclisma e del dolore per ciò che era andato perduto. Ma allo stesso tempo era meravigliato dal dispiegamento di potere al quale aveva assistito. A chi doveva essere attribuita la responsabilità del disastro? A quegli insensibili colossi che disponevano della creazione al loro piacimento o agli stupidi fratelli di suo padre? Quei bruti, incapaci di pensiero alcuno, meri cumuli di carne. Si preoccupavano soltanto di mangiare e dormire e non esitavano minimamente a mettere a repentaglio qualsiasi cosa fosse necessaria. Animali, distruttori, bestie divoratrici. Un mondo in cui vivevano quegli esseri era un luogo selvaggio, il dominio del più brutale. Se tali forze avessero agito liberamente, la pace in vita non sarebbe stata possibile, poiché sarebbe stato impossibile frenare l'istinto di prevalere sul più debole. Sarebbe stato uno squilibrio costante, il caos perpetuo. Spinto imprudentemente dalla sua curiosità, Odino saltò tra le macerie, da una roccia all'altra, fino al luogo più elevato che poté trovare, dove si piantò saldamente sui due piedi per osservare il mira al suo passaggio. Improvvisamente il gemello si fermò alla sua altezza e, come se avesse avvertito la presenza di quel piccolo essere che lo infastidiva, parve voltarsi verso di lui. Odino restò stupefatto, poiché il volto dell'impassibile colosso non era quello di una bestia, bensì quello di un essere dotato di intelligenza. Tanto peggio, si disse, perché la volontà di una bestia può essere piegata, mentre una mente pensante capace di una simile strage avrebbe avuto per sempre in mondo la sua mercè. Voltandosi nuovamente, Ymir riprese il suo cammino. Capitolo 3 L'astuzia di Odino Il corno onulava, talmente malinconico che nell'udirlo nessuno poteva fare a meno di commuoversi, e tutti distolzero lo sguardo dalle rovine delle loro dimore, per cercare in lontananza colui che lo suonava. Dato che il lamento proseguiva costante, interrompendosi quanto bastava per riprendere fiato, poco a poco tutti cessarono di rimuovere le macerie, dalle quali nulla era recuperabile, e partirono in cerca di quella cupa melodia. Giungendo dalle regioni boreali, dall'entroterra e dal profondo sud, i sopravvissuti al terribile cataclisma si adunarono sulla scogliera, dove fin dall'antichità si erano tenute le adunanze dei loro popoli, e in quel luogo per loro sacro sedettero a terra sgomenti. Al centro del consesso si innalzava una rupe appuntita caduta dal cielo il giorno della disgrazia. Retto sulla cima c'era il suonatore del corno, uno dei giovani figli del defunto Bor, di nome Odino, secondo il mormorio dei presenti. I suoi fratelli, Vili e Vè, salutavano circospetti i nuovi arrivati, trovando loro una sistemazione. D'un tratto Odino lasciò il corno, rivolse un'occhiata intorno e giudicò che l'affluenza era sufficiente. Per poter guardare in volto i presenti era salito su una cima. Da lì li esaminò uno per uno con espressione audace. Tra i giganti c'erano anche alcuni figli nati piccoli come lui, per lo più bambini. Il solo fatto di contemplare l'intensità del suo volto sollevava l'animo dei presenti. Nei suoi occhi vedevano qualcuno che non si abbatteva di fronte alle avversità, che sapeva chiaramente cosa fare e come, che sarebbe stato capace di aiutarli ad alzarsi e a ricominciare. Dinanzi al calore di quello sguardo si levò in piedi l'unico figlio sopravvissuto di Yaxl, il capo del nord che aveva provocato il disastro. Suo padre e tutti i suoi fratelli avevano pagato caro la loro audacia, ma egli incolpava se stesso per non essere riuscito a dissuaderli dal loro intento. Per tale ragione, una volta partiti per realizzare la loro folle impresa, aveva allertato quanti aveva potuto affinché fossero preparati e in questo modo era riuscito a salvare molte persone della sua famiglia e delle tribù vicine, che ora lo consideravano non soltanto erede di suo padre, ma anche un capo molto più assennato. Lo chiamavano Lofi, il palmo della mano, poiché era il più onesto dei giganti del nord. Odino, figlio di Bor, gridò attirando l'attenzione di tutti i presenti. Ci ha invocati e siamo accorsi. Parla, poiché vogliamo sapere se questa volta abbiamo riposto la nostra fiducia nella persona giusta. In quell'istante i nordici levarono le loro voci al cielo, assecondando il loro capo, e vedendo che era stata sedotta anche la volontà dei più indomabili, spesso guardati con naturale diffidenza a causa di quello... E vedendo che era stata sedotta anche la volontà dei più indomabili, spesso guardati con naturale diffidenza a causa di quanto avvenuto, anche gli altri si unirono a loro nel medesimo clamore. Non cessarono finché lo schiamazzo non ebbe placato l'angoscia che albergava nei loro petti. Odino attese pazientemente che si calmassero, intimamente compiaciuto. Solo allora cominciò a parlare e tutti si miravigliarono dell'acume del suo giudizio, sensato e audace al contempo. Lo ascoltarono assortiti, di modo che quando terminò tutti erano convinti e disposti a seguirlo ovunque lui avesse voluto, senza esitazione alcuna. Ymir riprese conoscenza, reanimato dall'insolita angoscia che mai lo aveva abbandonato da quando il patimento di sua sorella, travolta dagli attacchi, lo aveva svegliato. Quando aprì gli occhi, il cielo riversava su di lui un violento rovescio. La sua vista faticava. Avvertì una fitta di dolore che si propagò fino al midollo. Era una sorta di ferita che avvertiva molto in profondità, rivoltandogli le viscere. Adirato si alzò a fatica, come sempre, lento, svettante, un colosso insuperabile. Una volta eretto, attraversò la tormenta che rimase ai suoi piedi, come se si trattasse delle placide acque di un ruscello. Il mondo era coperto di nubi grigie, illuminato fugacemente dai lampi. Quegli insulsi esseri che ridicoli scorazzavano sulla faccia della terra sarebbero stati ancora capaci di rivoltarsi contro di lui e la sua gemella. Non avevano avvertito abbastanza la sua furia. Avrebbe dovuto assicurarsi di averli annientati una volta e per sempre, risparmiandosi così ulteriori sforzi. Esaminò il mondo intero, che poteva scrutare con una semplice occhiata, senza scorgere alcun segno di sua sorella. Tuttavia, nonostante non riuscisse a vederla, avvertiva la sua presenza. Ai confini australi, dove il fuoco regnava sovrano e il calore era talmente intenso da infastidire persino lui, i vulcani sputavano lava e cenerine colonne di fumo, come fossero in preda a Lir a causa di un intollerabile affronto. Ymir sentiva che Uthumla era lì, da qualche parte. Dalle pendici delle cordigliere boreali, il colosso riprese il suo cammino attraverso la burrasca, che al suo passaggio si trasformava in vortici. Per lui la terra non era molto grande. In poche falcate aveva raggiunto le regioni centrali, dove il clima mite favoriva la vita. Quanto più si allontanava dal freddo, maggiore era il suo malessere. E tuttavia, sebbene la sua natura abborrisse il caldo, sfruttava il suo dolore come guida verso ciò che non riusciva a scorgere a prima vista. Man mano che procedeva verso sud, faticava sempre più a sollevare le gambe e a sopportare il peso del busto eretto. Cominciava a sudare acqua, che si riversava al suolo in torrenti. Si arrestò alle soglie della regione dei vulcani, il confine meridionale del mondo. Non aveva l'ardire di oltrepassarlo. Timoroso, osservava il sangue incandescente della terra prorompere e straripare affiotti, traboccare dalle crepe in cerca dell'oceano, emanare fetide fumarole nere e violenti getti di vapore. Un rovente cataclisma più irruento del solito. Sebbene in qualche modo nutrisse la convinzione che sua sorella si trovasse nel regno del fuoco, non riusciva a capire per quale motivo fosse lì. Così come non riusciva a immaginare dove potesse essere esattamente. Il luogo era il contrario della vita. Perfino lui avrebbe temuto il peggio se vi fosse entrato. L'invisibile tenaglia della paura gli soffocava il collo. Non era abituato a provare un'emozione simile. All'estremo opposto la lava sfociava nel mare e si raffreddava al contatto con l'acqua, generando nuove terre, promontori, isole e penisole. Fu tra le rocce vulcaniche indurite che improvvisamente la terra oscura esplose saltando per aria sotto la spinta delle profondità. Da quell'impensato luogo salì in superficie Uthumla, ricoperta di cenere e in preda a un penoso mugito. Una volta fuori scosse il corpo nel tentativo di liberarsi dalle corde, spesse come tronchi, che ancora le opprimevano il ventre, le zampe e il collo. Ma non riuscendovi cadde preda della disperazione e provò a fuggire di gran carriera. In quell'istante una pioggia di sassi avvolti nelle fiamme le ostacolarono il passaggio. Ardenti rocce volavano dai promontori, scagliate da macchinari di legno manovrate da giganti. Alla vista di quegli eventi Ymir avvertì una stretta al cuore. Abbandonò ogni sospetto e in poche falcate si trovò finalmente nel cuore del regno di fuoco. Poco prima di raggiungere sua sorella si accorse che il suolo cedeva al suo passaggio, fragile come la superficie di un lago ghiacciato. Il piede affondò nel magma sottostante fino alla caviglia. Mai provò un tormento più intenso. Per un istante perdete tutti i suoi sensi. Restò cieco, sordo, incapace di muoversi e perfino di gemere, mentre il terreno si squarciava e si spalancava intorno a lui, lasciando sgorgare il sangue ardente della terra. Vacillò in avanti, cadde sulle ginocchia e nel piantarle al suolo fece traboccare il magma, accusando in tutto il corpo la stoccata del suo pungiglione incandescente. Il fuoco gli consumò la pelle e gli divorò la carne. Sangue denso e oscuro prese a sgorgare dalle sue ferite. Vi è più abbondante. Odino osservava la tortura di Ymir dal burdo di una caldera spenta non molto distante. Finalmente vedeva realizzarsi il suo progetto. Era riuscito a farsi obbedire dai giganti e a dirigere la preparazione della trappola. Non erano pochi quelli che erano morti durante le operazioni in quelle pericolose terre, consumati dalla lava o calpestati da Outumla una volta attirata con l'inganno nella caverna che avevano scavato per immobilizzarla sottoterra. Ora il colosso sembrava sul punto di crollare e tuttavia resisteva ancora. Era un'eventualità di cui il figlio di Bor aveva tenuto conto. Non aveva affatto pensato che riscattare la creazione dalla sua tirannia sarebbe risultata un'impresa facile. Vide che il volto del gemello si contorceva nel tentativo di uno sforzo supremo per allungare tutto il corpo e poi le mani in cerca di un appiglio fuori dal fuoco liquido. Malegrado la pelle lacerata e le ossa delle gambe spaccate prese a strisciare per uscire dal magma. Non c'era più altro tempo. L'ora dei figli di Bor era giunta. In ginocchio Odino posò a terra i palmi delle mani. Abbassò il capo, chiuse gli occhi e attraverso il contatto fisico, gli scese per sprofondare nella terra. Si immerse nella rugosità della sabbia e della pietra, nello splendore dei minerali ed essi lo accolsero di buon grado. Il suo essere si fuse in un'unica materia col bollente fermento del magma, in un unico palpitare. Allora la furia scosse il capo di Odino, serrò i pugni e piantò le dita nel suolo perforandolo. Sembrava agguantare la terra come se stesse tirando la criniera di un cavallo e avvertendo il suo rude dominio la terra tremò da cima a fondo. Odino la stava montando e a ogni tirata di redini, a ogni scalpitio al quale la forzava, faceva aumentare poco a poco la trepidazione, finché questa non ebbe assunto la forma di un sisma indotto. Un terremoto in cerca di Ymir. Quando l'ebbe raggiunto, il gigante cadde preda di un incontenibile spasmo. Il suo corpo si scosse dalla testa a quel che restava dei piedi e il cerulio dei suoi occhi si spense. Odino sollevò il capo e aprì gli occhi, completamente neri, come la pupilla, poiché grazie a esse e riusciva a contemplare la creazione intera. In quegli occhi neri si rifletterono le sommità di due elevazioni ai fianchi del colosso, dove in quel momento Vili e Beh scatenarono la loro potenza, assecondando il fratello. Dalla cima delle tre montagne, i figli di Bor unirono le loro forze per flagellare Ymir. Eppure, tali erano la sua mole e la sua volontà di sopravvivere che egli continuava a resistere, nonostante il dolore ammutolisse gli urlati provenienti dalla sua bocca spalancata. I figli di Bor aumentarono gli sforzi, scuotendo il corpo di Ymir a tal punto che questo oscillava, si deformava, pareva sul punto di crollare e rompersi mille pezzi. Vili e Beh videro stupefatti che la potenza che era capace di concentrare il loro fratello era talmente intensa da far scatenare i venti che spiravano dalla sua testa fino a generare un ciclone che assorbì le nubi e il vapore delle fumarole. Il turbine vorticoso girò e girò, sempre più impetuoso, e cominciò a scagliare in ogni direzione un caos di fulmini e saette. Si sentivano in intima connessione con lui, come se montassero insieme, ma con le redini tenute da Odino che affrettava il galoppo con un'audacia che incuteva timore. Dubitavano delle loro capacità di seguirlo e avvertivano un crescente malessere, come se la potenza del fratello, che aumentava senza freno, stesse travolgendo anche loro. Credevano di non poter sopportare oltre e che fosse giunto il momento di fermarsi e lasciare Odino da solo, quando Ymir cominciò a smembrarsi come una roccia al limite della sua resistenza. Ogni parte del suo corpo si spezzò, le braccia e la testa si staccarono, il torso e il ventre si squarciarono, riversando all'esterno tutto ciò che vi era all'interno. Un intero continente si frammentava in mille pezzi, abbattendosi sul mondo. All'impatto i suoi resti scossero la terra e, travolti da un'onda gigantesca, i tre figli di Bor furono scaraventati violentemente in aria. Odino cadde di schiena in una caldera pesante. Lì avrebbe trovato riparo dall'imminente catastrofe che aveva previsto e anche i suoi fratelli si sarebbero salvati, poiché li aveva messi al sicuro. Smembrandosi, Ymir avrebbe disseminato i suoi resti e avrebbe riversato oceani di sangue che avrebbero travolto il mondo. Molti giganti avrebbero perso la vita e il volto della creazione devastato sarebbe mutato e si sarebbe ricomposto. Tutto si stava svolgendo come Odino aveva immaginato, nell'unico modo possibile e necessario. Si sentiva soddisfatto, ma non era felice. Lofi, il figlio di Yaxl, aveva campeggiato il gruppo di giganti incaricati di catturare Othumla. Avevano scavato la caverna e costruito e manovrato le catapulte. Quando il colosso cadde e il suo sangue cominciò a sgorgare e a devastare la terra, con un'immensa onda che non si fermava di fronte a nulla, riuscì a mettersi in salvo salendo sui resti di una macchina costruita coi tronchi. La forza delle correnti lo trascinò sul legname da costruzione, rendendolo un tormentato testimone della catastrofe. Vide affogare molti dei suoi fratelli, straziato dall'impossibilità di aiutarli e uti numerosi animali strillare terrorizzati e innocenti. Dopo un po' il maremoto cessò e fu impossibile distinguere il sangue di Ymir dalle acque degli oceani, poiché si erano fusi l'uno negli altri. Lofi non scorgeva nessuna costa, vagava senza meta né vento che lo spingesse, si inghiacciando e disperando fino a perdere i sensi. Tempo dopo si risvegliò su una spiaggia pietrosa dove la marea lo aveva trascinato. Era ricoperto di alghe e circondato dai resti dell'improvvisata zattera che gli aveva salvato la vita. Non appena ebbe recuperato le forze, perlustrò la spiaggia e le colline circostanti. Era prodato in una terra aspra e fredda, dal terreno nero e vegetazione scarsa. Mai era stato in un luogo simile. I suoi erano tutti morti. Sedendo di fronte al mare, scrutò l'orizzonte dell'oceano. Era coperto da una fitta bruma, simile a una cortina. Vide una piccola cavità in fondo a una gola che sboccava in una baia. Lì costruì una dimora ben protetta con le rocce più solide che poté trovare. Presto scoprì che la vita marina era prospera. Per nutrirsi, arpionava e pescava senza alcuno sforzo, scrutando talvolta l'oceano in attesa che la foschia e lontananza prima o poi si dissipasse. Un giorno, svegliatosi da un sonno ozioso, scoprì finalmente che la nebbia si dissolveva in blocchi, sgomberando la vista del mare aperto. Si precipitò a riva e scorse all'orizzonte ciò che più temeva. La sagoma di una terra che, nonostante non riconoscesse chiaramente, gli risultava familiare, poiché era senza dubbio, la terra dove era nato, la terra dei suoi progenitori. La marea lo aveva allontanato da lì trascinandolo all'altro capo dell'oceano. Non poteva tollerare la solitudine e ancor meno l'idea di poter essere l'ultimo della sua stirpe. Spinto dall'angoscia, andò alla ricerca di altri sopravvissuti che fossero approdati su quelle coste lontane. Trascorse intere giornate a perlustrare il litorale, allontanandosi sempre di più dalla sua dimora. In questo modo riuscì a farsi un'idea precisa dell'orografia e della natura di quella regione. Una striscia costiera di terre basse che nell'entroterra presto diventava florida, elevandosi in una catena montuosa parallela alla riva. In ogni caso lì non trovò nessuno. Al termine di ogni giornata il suo animo oscillava. A volte perdeva ogni speranza e altre volte prometteva a se stesso che non sarebbe stata quella la tomba della sua stirpe. Alla fine continuava a cercare, forse anche solo per convincersi che in effetti era solo. Ebbe una stretta al cuore il giorno in cui scorse in lontananza una flebile colonna di fumo che si innalzava nel bel mezzo di un boschetto. Ansioso corse in quella direzione, ma una volta giunto nei paraggi rallentò il passo. Si gettò a terra e avanzò strisciando, poiché non voleva spaventare chi si trovava lì. Acquattato tra i cespugli vide una capanna precaria. Sulla porta ardeva un fuoco. Su un troncone che faceva le veci di una seggiola, giaceva una scodella in legno ricolma di cibi cucinati con delicatezza. Agrottò la fronte. Improvvisamente le fronte crepitarono di fianco a lui, molto vicino. Erano passi svelti diretti verso di lui. Cercò di rialzarsi più rapidamente possibile, ma non fu sufficiente. Ricevette un colpo diretto sul cranio, una scossa implacabile che lo stese nuovamente a terra. Le orecchie gli fischiavano, perciò attese a terra la pioggia dei colpi, ma, dal momento che l'attacco non avveniva, sollevò lo sguardo. Con un terribile dolore alla testa vide una femmina della sua specie, una gigantessa che gli si avvicinava per guardarlo meglio. «Che sei?» domandò a lui. «Sono Var!» «Sono Var!» rispose lei col tronco ancora in mano per prudenza. La gigantessa lo fissò dalla testa ai piedi, con espressione fiera. Senza capire per quale motivo, dopo un colpo a tradimento e con la bocca piena di sangue, quel disgraziato le sorrideva ancora. Lofi e Var, che significa primavera, vissero insieme, traendo nutrimento dal mare e da quel poco che offriva la terra. Si abbandonarono l'uno nelle braccia dell'altra, in cerca di conforto, ma non per questo abbandonarono la speranza che in quel territorio vi fossero altri naufraghi. Una volta soddisfatto il loro bisogno di calore e serenità, ripresero a perlustrarlo. Recandosi nell'entroterra, esaminarono con maggiore attenzione l'altissimo promontorio costiero e videro che i suoi confini laterali si perdevano in lontananza come una muraglia. Le sue vette erano innevate, ma sulle falde si scorgevano boschi assai rigogliosi che lasciavano immaginare una prospera terra che si estendeva verso il lato opposto lontano dal mare. Le loro lunghe esplorazioni ebbero successo. Trovarono un padre e una figlia, dei fratelli, altri erano soli, alcuni abbandonati a loro stessi e ormai quasi impazziti, altri associali e perfino pericolosi. Grazie al loro aiuto esplorarono grandi estensioni di terra di quella sterminata regione, di modo che col passare del tempo formarono una piccola comunità di giganti provenienti dai molti insediamenti esistiti prima del disastro e che ora facevano parte di un'unica famiglia, la famiglia dei superstiti. Stabilirono un piccolo villaggio di casupole sparse vicino alla costa. I montanari, che vivevano lontani dal mare perché irritati dal suo mormorio, organizzavano delle battute di caccia, ma tornavano soltanto con piccoli roditori. I cacciatori si impegnavano in lunghe camminate con scarsi risultati. I più intrepidi lottarono contro le paure che ancora turbavano i loro sogni e costruendo solide barche ebbero perfino l'ardire di navigare in mare aperto per ottenere una pesca più abbondante. Vivevano al riparo dai pericoli, condividendo i frutti del loro sforzo, ma la terra era molto povera e la vita era molto frugale. Sotto l'autorità di Lofi, eletto capo fin dal primo momento, la loro preoccupazione era trovare sostentamento. Fu proprio su questo versante che emersero i problemi. Non c'era stato bisogno di costruire palizzate, né tracciare confini finché non sorsero discussioni sulla proprietà dei terreni e sui furti delle provviste sistemate nei depositi collettivi. Presto Lofi si vide costretto a mediare tra i contendenti e a imporre disposizioni che non accontentavano nessuno. Il malcontento crebbe e scoppiarono i tafferugli. L'atmosfera si fece difficile, angosciosa. Eppure, nella malinconia generale, nei sospiri, nei pianti privati, si manifestava una cosa che tutti condividevano e che ognuno taceva. La nostalgia per la terra dei loro antenati, la cui sagoma, intravista sulla linea dell'orizzonte oceanico, li tormentava. Un giorno, Lofi stava lavorando il legno sulla porta della sua casa quando vide un gruppo di giovani andargli incontro. Erano molti tra i più valorosi e accorrevano a lui con animo irrequieto. Non vogliamo più rimanere su questi lì di deserti, disse il più maturo di loro. Vogliamo tornare indietro per vedere cosa resta delle nostre terre. Se anche fossero poche, ripopolarle e restituir loro la vita. Come farete? Ci avete pensato? Costruiremo una lunga nave dal ventre concavo che ci permetta di attraversare l'oceano. Lofi assentì col capo senza potere né voler nascondere che comprendeva la loro decisione, sebbene non fosse pronto ad accompagnarli. Solo una cosa, vi chiedo. Se le nostre antiche terre sono in rovina, ma la vita ci prospera ancora. Tornate a cercarci. Non abbandonateci qui, disse loro. Così faremo, promisero. Era un'impresa ardua, poiché l'oceano era ampio e le sue acque erano oscure e terribili, come ben sapevano tutti coloro che le avevano attraversate. E tuttavia l'impresa non sembrava impossibile. Nelle giornate più limpide si poteva scorgere la costa opposta, sfumata per la distanza, ma tentatrice, poiché all'apparenza raggiungibile. Con la sua approvazione i giovani si misero all'opera per terminare quanto prima la costruzione di una nave. Quando i venti ebbero sgombrato il cielo, l'intero villaggio si riunì sull'arenile dove era stata varata la nave. Ogni famiglia cedette ai viaggiatori una parte delle proprie probiste e della propria acqua. Gli uni abbracciarono gli altri, si inghiuzzarono a lungo e, finalmente, spinti dai più impazienti, i marinai sollevarono la nave con le loro possenti braccia e la gettarono in acqua. Si imbarcarono e solcarono la superficie del mare coi remi, sollevando la spuma. La gente, rimasta a terra, li osservò allontanarsi dalla riva e li vide rimpicciolire nell'immenso oceano aperto. Con l'animo abbattuto, ma non privo di speranza, abbandonarono la sabbia con passo sommesso, mentre la nave svaniva all'orizzonte. Le correnti erano favorevoli e i cieli propizi. O almeno così fu alla partenza, poiché poco dopo, mentre Lofi risaliva al pendio che portava alla sua casa, vide che le foglie degli alberi protestavano e che il vento mutava costantemente direzione, come fosse irritato. Non se ne preoccupò troppo, ma neppure cessò di pensare che non fosse un buon segno. Più tardi, quando nel villaggio ognuno era assorto nelle proprie faccende, un tuono brutale fece trasalire tutti dallo spavento, là dove si trovavano. Nessuno levò gli occhi dal cielo per osservare le furibonde nubi che incombevano sul mare. La tormenta si scatenò all'istante, scagliando pietre dal cielo grosse tanto quanto un pugno, talmente pesanti da perforare il terreno. Chi dimorava nelle grotte accolse i vicini che abitavano nelle case di legno, poiché all'aggressione della grandina i tetti cedevano facilmente. Stretti gli uni e gli altri attorno al fuoco tremavano di fronte alla furia che il cielo scatenava su di loro. La grandine mutò in una pioggia ostinata e si prolungò fino a lasciarli stremati. Di fronte al loro sguardo impotente, impetuosi fiumi di fango trasformavano il villaggio in una grande distesa di melma. Tutti tacevano ciò che turbava le loro menti. I marinai avevano schivato la tormenta. Desideravano con ardore che si placasse, ma nessuno sarebbe stato capace di immaginare quello che i loro occhi avrebbero visto una volta che ciò fosse avvenuto. Da prima cessò la tempesta. Poi, man mano che le nubi andavano dissolvendosi, invece di veder spuntare sulle radure il cielo che conoscevano, irruppero torrenti di luce, una luce calda e intensa mai vista prima. Cadendo sulla terra, si proiettava sotto forma di ritagli e svelava alla vista colori di una vivacità inaudita. Quando le nubi si furono del tutto dissipate, il mondo si riempì di una calda luminosità. Gli uomini uscirono dalle grotte attoniti, poiché il paesaggio sembrava un altro. La luce era talmente chiara da accecare la vista, così dovettero proteggersi gli occhi. Gradualmente si abituarono a essa e poterono vedere che nell'alto del cielo brillava un fuoco bianco, un immenso bagliore acceso per effetto di un potere glorioso. Finalmente il sole splendeva sulla creazione, sebbene ignorassero il suo nome. Camminando nella distesa di fango che ora era il loro villaggio, scoprirono che le piogge avevano fatto scendere dai monti dell'entroterra giù fino alla costa una miriade di ruscelli popolati di pesci, come a pronunciare ciò che avrebbero potuto trovare lì in cima. Urla stridenti di grandi passeri attirarono la loro attenzione e così videro che fitti stormi di uccelli attraversavano l'oceano e li sorvolavano in cerca di una dimora in qualche luogo al di là delle montagne. Sembrava che il promontorio li chiamasse a sé. Sotto la nuova luce, la vegetazione che si scorgeva sul lato opposto risplendeva, fresca e umida per via della pioggia, un vero e proprio richiamo per i loro corpi affamati ed esausti, stufi del mare e di avvistare all'orizzonte il costante ricordo delle loro disgrazie. La magia fu interrotta da un tumulto di gemiti provenienti dalla riva. L'ofi corse fin là col fiato sospeso e trovò molti altri giunti sul luogo prima di lui. La marea aveva trascinato sulla costa un cumulo di tronchi distrutti. Tra questi si riconoscevano le piastre piatte della chiglia, l'albero e perfino i remi del vascello avventuriero. Dei corpi non vera traccia, poiché a causa del loro peso l'oceano doveva averli imbiottiti. Con l'animo scomposto, l'ofi cadde in ginocchio e si unì al gemito che i presenti elevavano al cielo. Nella sua tribolazione tentò di dare un senso a ciò che stava accadendo. Non poteva attraversare quelle acque. L'oceano li aveva respinti, ma la tempesta non era stata troppo opportuna, scatenandosi in tempo per affondare i marinai. E quei portenti? La luce, i fulmini, gli uccelli che li richiamavano verso le vette della montagna? Là! Visse qualcuno indicando la vuota immensità del mare. I presenti seguirono l'indicazione e rimasero turbati, poiché all'unisono tutti videro la stessa cosa. La nuova luce del cielo scintillava come se stesse decidendo se spegnersi o incendiare il mondo. Ma tra uno stato e l'altro si intravedeva un'immagine formata dalla foschia. L'immagine di qualcuno che levitava sulle acque. Un'immagine talmente estesa che era impossibile capire se la figura si trovasse al di sopra del mare o fosse all'orizzonte, assoluta come il cielo. L'ofi lo riconobbe immediatamente. Il figlio di Bor, mormorò. La voce di Odino risuonò nelle loro teste. Vivete in pace su questa terra, poiché è per voi. Un fremito percorse il corpo di Lofi. Ora comprendeva l'astuzia di Odino, il proposito che aveva perseguito fin dall'inizio. La trappola per uccidere Ymir era servita anche per liberarsi di loro. Per questo motivo li aveva mandati a stabilirsi vicino al mare, mentre lui e i suoi fratelli erano rimasti nell'entroterra. Per questo motivo aveva disposto che tutti i figli di giganti, nati piccoli come lui, si rifugiassero lontano, col pretesto che erano troppo giovani. Aveva previsto la catastrofe che la caduta di Ymir avrebbe causato e aveva tentato di approfittarne. Forse ora non era affatto contento di vedere quanti di loro erano sopravvissuti. Chissà cosa passava per quella mente spregevole. Pianse dalla rabbia pensando a suo padre e ai suoi fratelli, alla terra perduta dei suoi antenati, al destino funesto della sua stirpe. Avevano avuto il mondo nelle loro mani, ma Odino, figlio di Bor, lo aveva sottratto loro e li costringeva a non oltrepassare quei confini. La collera gli pulsò in gola con un impeto tale da non poter essere soffocata. Traditore! Brami. Il suo odio sarebbe stato eterno, poiché si sarebbe assicurato di trasmetterlo da padre a figlio. Un giorno avrebbero attraversato di nuovo quel mare con le loro navi, oppure li avrebbero trascinato il gelo per poterlo ridurre in ghiaccio e attraversarlo a piedi, oppure lo avrebbero disseccato se necessario. Con ogni mezzo e ad ogni costo, l'intera sua stirpe avrebbe tormentato Odino e i suoi simili fino alla fine dei tempi. Capitolo 4. Il tempo degli uomini. La palla di fuoco fiammeggiava levandosi lentamente in cielo e riscaldando la terra con i suoi raggi. La sua luce, frammentata, scintillava sulle acque di un ruscello, contemplandola. Odino si accorse di essere rimasto a lungo assorto e si alzò dalla roccia dove si era seduto a riposare. Roccia ricoperta di un muschio di colore diverso da quello che avevano conosciuto i suoi genitori. Un muschio verde. Dopo numerose giornate trascorse a percorrere la nuova terra, era giunta l'ora di ricongiungersi ai suoi fratelli, come era previsto. Proseguì il suo cammino aiutato da un bastone ricavato da un grosso ramo spezzato. Dinanzi ai suoi occhi si estendeva un paesaggio tortuoso. Colline seguite da piccole valli, terreno smosso, rocce delle profondità che si affacciavano in superficie, improvvisi precipizi. Dava l'impressione che un di colossali animali selvaggi fosse passato al galoppo affondando le zampe e rivoltando la terra, portando alla luce tutto ciò che vi risiedeva nel ventre. Una volta placatesi i terremoti successivi alla caduta di Ymir, i figli di Bor videro che il colosso si era spaccato in voluminosi pezzi. La spina dorsale spezzata, il costato aperto e tutte le ossa e numerosi resti furono disseminati dalla forza trascinante del maremoto causato dal suo sangue. Quando i fluidi avevano trovato un equilibrio e si erano stabilizzati, i resti ricoprivano gran parte di ciò che era estinto un tempo. Il cadavere smembrato aveva spinto le acque dell'oceano fino ai limiti della terra conosciuta. Ora circondavano il centro come un anello. Al lato opposto dell'oceano circolare si estendevano ancora antiche regioni sulle cui coste si erano arenati i resti del colosso che rimasero innalzati con l'apparenza di un'estesa catena di vette affilate. Dopo il cataclisma Odino era rimasto in uno stato di prostrazione, sveglio, cosciente ma incapace di muoversi. I suoi fratelli lo avevano sollevato e lo avevano portato in un luogo sicuro dove erano rimasti a vegliare sul suo riposo finché non si era ripreso. In quel frangente Odino aveva contemplato il vento che spazzava la polvere dalla faccia del nuovo mondo e volgendo lo sguardo al cielo oscuro rifletteva tra sé. Di che cosa era composto? Era solido come il tetto di una grotta oppure era simile alla chioma di un albero? Che cosa avrebbe permesso di attraversarlo? Poteva precipitare sulle loro teste e schiacciarli? Oppure poteva essere perforato, aperto in qualche modo per arrivare al lato opposto? Vili e Vè non capivano il suo cavillare. Quale lato opposto? Domandavano soppiudendo gli occhi seduti accanto al fratello vicino al calore di un fuoco. Odino, ancora visibilmente esausto, parlava senza distogliere i suoi penetranti occhi sognanti dalla montagna. La creazione deve essere qualcosa di più di questa terra che vediamo. Molto di più. Donde provengono i bagliori che splendono in cielo? Da quale luogo remoto situato nel lato opposto? O forse dalle profondità della terra? I suoi fratelli osservavano i bagliori nel cielo, poiché erano sempre stati lì, emanando una tenue luce, li avevano dati per scontati, senza mai chiedersi da dove venissero, né il motivo del loro fulgore. Si voltarono verso Odino, un po' desolati per aver dubitato di lui. I suoi occhi recuperavano già il loro terribile bagliore. I fratelli sospettavano ciò che stava pensando. Sarebbe stato capace di raggiungere le ardenti scintille del cielo e parlare con esse? Non appena ebbe recuperato le forze, Odino preparò il piano, unendo ancora una volta ai loro poteri, i tre figli di Bohr riuscirono ad attirare una grande quantità di bagliori. Li fecero scontrare gli uni con gli altri, li unirono e li fusero. Crearono così un'immensa palla di fuoco, affinché emanasse sulla terra una luce più intensa e chiara e generasse un calore tale da estendersi fino al più recondito angolo. Sotto il nostro dominio è ora il fuoco del cielo, che arde secondo il nostro desiderio. Ma dovremo occuparci anche del gelo, affinché non vi sia regione dove possa estendersi liberamente, spiegò Odino ai suoi fratelli. Metteremo in moto il corpo celeste che abbiamo creato e lo faremo girare intorno alla terra affinché non possa mai bruciare una sola regione né abbandonarla al gelo. E così fecero. L'astro avviò un moto costante, generando dei cicli in base i quali il mondo restava alternativamente illuminato e nell'oscurità. Tuttavia, presto si accorsero che in assenza dell'astro, e in contrasto con l'intensità della sua presenza, le tenebre avvolgevano il mondo in un impenetrabile e gelido buio, dove l'oscurità si faceva pericolosa, poiché in essa si riunivano tutti i terrori. Così i figli di Bor pensarono che fosse necessario che il fuoco del cielo avesse un fratello, un araldo che mantenesse allerta al mondo. Per crearlo, unirono alcuni bagliori e li ricoprirono con uno strato di ghiaccio abbastanza denso e duro da resistere. Era un astro di gelido fuoco. Lo inviarono dietro suo fratello, sempre all'estremo opposto, affinché sorvegliasse la parte del mondo avvolta dalle ombre. Dopo tutte queste imprese, i figli di Bor si sentivano esausti e vulnerabili, dato che la creazione che avevano conosciuto aveva ora un altro aspetto, si proposero di conoscerla di nuovo. A tale scopo lasciarono in un luogo sicuro i bambini che avevano salvato dal disastro, quelli che, nati dai giganti proprio come loro, erano più piccoli e avvertivano in petto il vigore di formidabili capacità. Li affidarono alla maggiore di loro, una ragazza molto sveglia di nome Frigg, e in seguito si separarono, incamminandosi ognuno per la sua lunga marcia attraverso il mondo conosciuto, rischiarati di una nuova luce. Il sole aveva mutato i colori della creazione e le aveva resi più radiosi, più calli, più vivi. Strada facendo, i figli di Bor ammirarono sfavillanti pianure, nuove catene montuose, fresche valli appena nate. Scoprirono migliaia di sentieri che percorsero in solitudine e in ossequioso silenzio, poiché la terra era deserta, a eccezione delle poche creature, roditori e insetti, il cui un genio le aveva aiutate a mettersi in salvo. I figli di Bor si meravigliarono nell'osservare il modo in cui il cataclisma aveva mescolato il nuovo e il vecchio, poiché non era possibile distinguere dove terminava l'uno e dove iniziava l'altro. Il vecchio si rifiutava di sparire schiacciato dal peso del nuovo e manifestava la sua ira con violente eruzioni di acqua ardente che fuoriuscivano da qualche crepa o dalle sorgenti che trasudavano silenziosamente benefici liquidi dalle profondità. Un luminoso giorno, Odino avvertì nuovamente la vita palpitare sotto la superficie. Da quando aveva montato la terra per attaccare il colosso, aveva smesso di percepirne le inquietudini, i sussulti. Era troppo affaticato per provarci e quando anche lo avesse fatto, ella risentita lo avrebbe certamente evitato. Tuttavia quel giorno all'improvviso, senza la necessità di toccare il suolo, gli parve di percepire un pericoloso risveglio al suo interno. Il cataclisma aveva ormai sepolto gli antichi alberi di un tempo. Eppure i semi, incipiente promesse dei nuovi boschi, erano ancora lì. Il maggiore dei figli di Bor giunse pieno di gioia nel luogo dove i fratelli avevano stabilito di trovarsi al termine del loro viaggio. I tre si abbracciarono affettuosamente. Ardevano dal desiderio di raccontarsi le novità che avevano visto. Ma prima di farlo, Vili chiese agli altri due di seguirlo. Li condusse in una gola assai soleggiata, tranne che nell'alveo del torrente, dove il terreno era sempre impregnato di rugiada e ospitava uno spazio riparato dai venti e dagli eccessi. Vili chiese ai suoi fratelli di chinarsi e mostrò loro ciò che spontaneamente affiorava dal terreno. Un piccolo germoglio verde. Giovane stelo di una nuova pianta. Esultanti, i figli di Bor si estasiarono, scoprendo gli innumerevoli mutamenti avvenuti in ogni luogo. Il muschio aveva ripreso ad affiorare lentamente nell'umidità e le acque scorrevano cercando la discesa. La terra recuperava timidamente i suoi palpiti a un ritmo che seguiva il moto dei corpi celesti. Alla luce del sole brulicava la vita, mentre sotto il velo argentato della luna essa si abbandonava al riposo. La creazione era stata scossa a tal punto da mutare del tutto, ma il suo vigore rimaneva intatto. Sarebbero stati capaci di farla rinascere. 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 Ben scassi n'y amè Ilo s'avgnosti n'y amè No recogel me gengo Udessore traur Er calla, so calla